Bene, volevo fare i complimenti alle ragazze del Mondial che hanno eliminato la Cina per 2-0 agli ottavi di finale. Sabato alle 15 ci aspetta la sfida con gli Stati Uniti. Speriamo di passare anche quella. Ci aspetta la sfida con gli Stati Uniti, dicevo. Sfida con gli Stati Uniti che francamente non mi sembra una sfida forse tutto sto... Non lo so, vedremo quel che sarà. Hanno segnato Giacinti e Galli. Quello di Galli è stato proprio un gol stupendo. Da fuori area, da fuori area. Ragazzi, che gol della Galli. La Giacinti poteva fare anche il 3-0 nel finale, ma purtroppo non c'è riuscita. Mi dispiace per lei, poverina. Ma non tutto si può volere. Non tutto si può avere. Cos'altro c'è da aggiungere? Fatemi pensare. Niente, penso che non ci sia molto altro da aggiungere. La Cina non ha quasi visto il pallone, a parte quando ha battuto i calci d'angolo, visto che praticamente la Cina ha avuto 8 corner a 0. Io di precedenti simili mi ricordo solo Torino-Milan del 10 gennaio 2015, quando il Torino ebbe 7 corner a 0 contro il Milan. Non so se qualcuno si ricorda di quella partita. Qua invece ci sono stati 10-8 corner a 0 per la Cina. Per fortuna non è successo nulla su quelle azioni. La Giuliani, per fortuna, ha saputo stoppare la palla anche i difensori. I difensori donne delle azzurre. Che dire ragazzi, questo calcio femminile comincia finalmente a farsi più interessante. Sto vedendo finalmente un gioco simile a quello maschile. Finalmente le ragazze si danno a fare e hanno capito come si gioca a pallone. Hanno capito come ci si deve allenare. Finalmente stanno mettendo cuore e anima come se giocassero gli uomini. E questa cosa mi piace perché rende loro il vero spirito di atlete e sportive. Brave ragazze, così vi voglio. Adesso andate a giocare sabato alle 15 con gli Stati Uniti e mi raccomando, vincete!